Salve a tutti ragazzi, io sono sempre ErenBlaze e vi do il bentornati a questa serie di sopravvivenza. Guardate che bel gliccione che ho alle mie spalle. Mamma mia, no, è un errore di Chunk mi sa. Vediamo, wow, trema tutta la visuale quando mi avvicino. Lagga, lag paura, panico paura. Sì, proprio un errore di Chunk, speriamo che si carichi poi. Oddio, vediamo cosa c'è sotto, sbirciamo un po'. Caverne, caverne, là c'è della lava, logicamente. Non c'è qualche bel sistema, un dungeon così da sgamare. No, eh, figuriamoci, un po' di fortuna. C'è la gente che di solito ha gli errori di Chunk e si becca i dungeon, gli stronghold, così. No, vabbè, dai, non c'è un cazzo. E, dio mio, speriamo che si curi da sola la cosa, se no mi tocca tornare... Pure il danno mi fai, sei proprio una bestia. Se no mi tocca tornare su WorldEdit e metterci il Chunk a mano. Vabbè. Allora, ragazzi, iniziamo questo video in una maniera un po' critica, perché avrei delle cose da dirvi. Tre cose, principalmente, quindi cercherò anche di essere abbastanza veloce. La prima cosa riguarda il feedback che mi date in questi giorni, soprattutto nelle ultime puntate di questa serie. Che cazzo... no, c'è un altro. Oh my god, ragazzi. Scusate se vi interrompo, ma... È un casino. È un casino. Eh, non so perché ci siano tutti questi errori di Chunk. Proviamo un attimo a chiudere e a riaprire. Così, al volo. Il bello della diretta, ragazzi. In diretta è un cazzo, però. Non c'ho voglia, poi, di... Di tagliare Tuskos, quindi... No, c'è... C'è ancora questo maledetto errore di Chunk. Eh, bene, 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 bene. Vabbè, tanto ho i backup della mappa. Quindi al massimo rimetto quelli. E... Sti cazzi, ragazzi, che due coglioni. Sta anche laggando la mappa. Vabbè, mentre lagga e tutto quanto, intanto devo più che altro parlarvi a questo giro, a questa puntata. Iniziamo dal fatto che, in molti, si sono lamentati che le ultime puntate, soprattutto la ultima, sono noiose. Allora, partiamo dal fatto che i commenti che ho letto sono robe del tipo... Guardate che neanche si chiude la porta, è un casino. Sono robe del tipo... La puntata è noiosa, punto. La puntata è inutile, punto. Cioè, allora, se volete fare un commento, io vi ho sempre detto, qualsiasi critica l'accetto volentieri, perché... Le critiche fanno solo che bene, fanno anche più bene dei complimenti ogni tanto. Però, critiche costruttive. Se voi mi dite il video è noioso e basta, che cazzo me ne faccio di sto commento, sinceramente? Non me ne faccio nulla. Se voi mi dite il commento è noioso, virgola, ti consiglio di fare così o cosà, allora lì diventa utile e costruttivo il commento. Quindi, quello che vi voglio chiedere, se voi vi annoiate e me lo volete far sapere, ditemi anche cosa potrei fare per migliorare la serie, per esempio. Ditemi cosa vi piacerebbe vedere per renderla più interessante. Detto anche che è una serie di sopravvivenza, quindi la modalità sopravvivenza del gioco tocca diversi aspetti, che non sono solo le cose interessanti, tipo esplorare i dungeon, sfidare i boss e tutte queste figate qua. Che anche a me piacciono molto di più che colorare le pecore, per esempio. Però ci sono anche queste cose nella sopravvivenza. C'è il coltivare, l'allevare gli animali, non aprire le fottute porte. Allora posso uscire, grazie. Colorare le pecore è stupido, però è una cosa che va fatta. Questa serie vuole affrontare tutte le tematiche del gioco, quindi vuole anche fare un po' da tutorial. Un tutorial gigantesco. Ci sono anche ragazzi... Oh mio Dio, che cazzo è successo? No, sta diventando inquietante sta cosa. Dicevo, ci sono anche ragazzi che hanno iniziato a giocare vedendo i miei video e tanti altri che mi seguono per imparare cose nuove. Allora capite che io spiego anche tutto per benino, con tanti video e tante puntate, anche per affrontare tutti gli argomenti e poter fare anche da tutorial, se vogliamo, per far imparare a giocare al meglio tutti quanti. Capisco che chi sa già certe cose, non gliene frega un cazzo di vedermi piantare le patate o allevare le pecore, però è una cosa che va fatta. Intanto notiamo come il lag fa sempre più paura. Fra l'altro mi era anche crashato il PC prima, quindi non vorrei che sia un problema relativo al PC, ho anche perso la registrazione che avevo fatto, pensate un po' quanto sono inferocito anche per questo motivo. Quindi ragazzi, non aggiungo altro, vi dico solo che io queste cose le devo fare, pian piano le stiamo esaurendo, quindi stiamo finendo allevamenti, coltivazione e le cose un po' più pallose, quindi dopodiché si tornerà a fare sul serio con argomenti più interessanti. Ho voluto riavviare Minecraft e come vedete la mappa presenta ancora gli errori di Chunk e questo lag impressionante. Allora, leviamoci da queste zone perché, guardate, non mi riesco neanche a muovere. Quando la mappa si bugga così, diventa un casino, c'è troppo lag, i Chunk non si caricano, ci finisci dentro, è un casino. E niente, ragazzi, devo riuscire ad allontanarmi da qua per vedere se riusciamo a risolvere un po' il lag, magari allontanandomi anche dalla zona costruita che ha più blocchi da caricare. Guardate come cazzo vado scattoso. Qua non c'entra, ecco, sono anche tornato indietro. Qua non c'entra il discorso delle prestazioni del PC o queste cose. È proprio la mappa che si è fottuta. Vabbè, io... Mamma mia, quanto è fastidiosa sta cosa. Guardate, è ingiocabile. Ecco, questo anche per dire che purtroppo Minecraft di queste cose ne è pieno. Quindi, se ci giocherete tanto, prima o poi dovrete anche sperimentare queste cazzate. È ingiocabile, è ingiocabile. Non posso spostarmi da qua. Guardate. Continuo a tornare indietro, a scattare. Così. E... Ok, ragazzi, magari cerchiamo di stare fermi. Che vi devo dire un'altra cosa. Allora, sotto ogni video praticamente di questa serie, Intanto mi sono spostato ancora, chi se ne frega. Sotto ogni video, o quasi, mi chiedete il download della mappa. Anche qua. Non avete voglia mai di cercarvi le informazioni per conto vostro. Dovete sempre ripetermi la stessa domanda. Io ho già risposto infinite volte. E la mia risposta è che non vi do il download della mappa Fino alla fine della serie. Quando la serie sarà finita, deciderò se darvelo o no. Perché questa scelta? Per il semplice fatto che la mappa che ho costruito, appunto, è mia. È una mappa personale. Non è nulla di eccezionale come costruzioni. Non c'è niente di che. Però è personale. Vorrei che, se anche voi la volete guardare, la guardiate attraverso i miei video. Quindi se ve la scaricate, ve la giocate voi, magari ci fate anche un video sopra, non c'è più gusto, non sarebbe più la mia mappa. Capite? È come quando voi avete un vostro mondo a cui ci lavorate da un sacco di tempo. Non credo che vi dia, che... Oddio, come si dice. Non credo che vogliate darlo ai vostri amici. Dare il download ai vostri amici in modo che poi ci giocano loro e ci fanno il cazzo che vogliono. Perché? Semplicemente perché è il vostro mondo e quindi lo costudite un po' gelosamente. Perché deve essere una cosa personale. E così è anche per questo mio mondo che è appunto Nuova Kalos, se vogliamo chiamarla così. La mia costruzione, la mia base, la mia mappa. Voglio tenerle per me almeno fino a quando le userò. Poi se un giorno smetterò di usarle allora posso anche pensare di darvi il download. Intanto, che cosa vi posso dare? L'ho già detto tante volte, mi sono sempre dimenticato. Vi posso dare il seed della vecchia mappa. Quindi non questa mappa ma quella prima del passaggio alla 1.7 appunto la mappa di Kalos quindi tutta quella della prima parte della serie. Vi posso dare il seed di quella. Quindi adesso vediamo se riusciamo anche a scriverlo. Questo maledetto seed. Io l'ho già scritto quindi basta che faccio incolla. Eccolo qua. Il seed è 56884105 76981460971 mandate un sms con scritto il vostro nome e il nome della vostra figa per sapere se la vostra relazione funzionerà bla 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 se servizio in abbonamento lo vincoliamo con un euro di tariffa al mese e 500 messaggi di spam. No, a parte le cazzate e le pubblicità stupide questo è il seed. Vi ricordo è quello del vecchio mondo quindi non è questo ma il vecchio mondo che era in 1.6 quindi se volete usare il seed usatelo solo nelle versioni 1.6 se lo usate nella 1.7 vi genera un mondo totalmente diverso ok? Perché logicamente c'è stato un cambiamento alla generazione del mondo quindi il mondo che vi esce non è quello lo dovete usare solo in 1.6 Ora siamo siamo ancora bloccati? Direi di sì io provo ad allontanarmi ancora voi direte ma perché si ostina a giocare la mappa? perché non c'ho voglia di caricare il backup tanto devo più che altro parlare uscirà una puntata ancora più noiosa ma è perché l'avete voluto voi semplicemente per voi intendo quelli che hanno avuto da ridire su l'intrattenimento di questa serie se voi mi scrive scrivavate dei commenti con più possibilità di risposta quindi più motivati con la volontà di creare un dialogo avrei risposto lì però mi avete tagliato le gambe perché fate i commenti secchi quindi poi io devo fare video per argomentare perché non so che cazzo scrivervi visto che vi limitate a scrivere due parole e poi voi siete a posto così ok d'altronde non posso fare quasi un cazzo in questa partita perché visto che c'è il problema con i chunk dovrò per forza ricaricare il backup e quindi perderei tutte le novità intanto direi a morte il maiale non riesco neanche a selezionare la spada guardate quanto è triste la cosa a morte il maiale di merda vabbè tipo fra un minuto si vedrà che l'ho colpito neanche neanche non si vede neanche che l'ho colpito allora ragazzi sta diventando pietoso questo video vi voglio dire un'altra cosa l'ultima cosa che vi voglio dire è il fatto dei commenti di youtube i commenti sono totalmente cambiati io ho espresso la mia opinione sulla mia pagina facebook quindi se volete che sapere cosa ne penso nello specifico guardate lì vi voglio solo dire che per esempio ad alcuni dei vostri commenti non riesco a rispondere non esce più il tasto di risposta quindi cosa posso fare non posso rispondervi ai commenti mi spiace non so come come cazzo devo fare non si sa se è un bug se fa parte di questo aggiornamento idiota non si sa certi commenti non si può rispondere sotto un video che è quello degli hunger games l'ultimo addirittura mi esce scritto che non ho i diritti per rispondere cioè ma stiamo scherzando non posso rispondere ad un mio video cioè siamo messi di merda con questi nuovi commenti quindi sappiate che se vi rispondo di meno è per questo perché non si può non si riesce proprio non non posso fisicamente cliccare rispondi perché è sparito il tasto e alcune volte mi dice che non posso addirittura anche se il tasto c'è altra cosa i commenti recenti sono totalmente sputtanati per cui se io prima vedevo subito gli ultimi commenti arrivati che non avevo ancora letto adesso c'è da selezionare mi sembra commenti dal più recente per poterli vedere però anche lì funziona malissimo la cosa è un macello ragazzi se volete comunque commentare lasciatele un commento come sempre io lo leggo perché li leggo tutti in un modo o nell'altro però non riesco non riesco proprio a rispondere a tutti i commenti perché non si può fisicamente intanto qua la situazione sembra leggermente migliorata io ho finito di fare il mio discorsone quindi direi che adesso chiudo e ricarico il backup sperando che che la prossima volta funzioni e quindi vediamo di fare qualcosina per concludere il video eccoci ragazzi ho rimesso il backup della vecchia mappa ora non sono nel punto dove c'è la base perché me ne stavo andando via però oltre a essere incazzato per i commenti su youtube che non si possono più leggere oltre il lag del gioco mi si aggiunge il fatto che mi crasha il pc quindi non so se i problemi minecraft e pc siano connessi comunque sia minchia non ce la faccio più sto sclerando di brutto oggi quindi allora la base dovrebbe essere qua se riusciamo ad arrivarci in tempo vi faccio vedere che non c'è più il problema del chunk quindi come risolvere questi problemi del chunk e se mai vi capita e infatti vedete che è risolto se mai vi capita sappiate che tante mappe che ricevono questi problemi vanno buttate quindi il consiglio che vi do è di farvi sempre dei backup non so non quotidiani se no è uno sbattone però tipo ogni settimana fatevi il backup delle vostre mappe in modo da poter rigenerarle subito ecco che è spuntato un altro errore e non lo so non lo so mi sta facendo sclerare il pc minecraft oggi quindi è un casino direi che si apre pure la roba di java siamo a posto direi che il video lo finiamo qua considerate ragazzi che io da 5 mesi ho il canale vi do quasi un video al giorno in hd utilizzando questo pc di merda che mi ritrovo ragazzi veramente mi dovreste fare santo subito per tutta la pazienza che sto avendo e scusatemi se questo video sarà il più noioso di tutti però c'erano delle cose che andavano dette e quindi le ho dovute dire voi sapete che mi piace comunicare sempre con voi spiegarvi determinate cose quindi non potevo sottrarmi da da questo compito e ho dovuto fare tutta questa discussione per spiegarvi le varie cose che vi ho detto per l'appunto detto ciò allora dal prossimo video sperando che si risolvino questi problemi dal cazzo torniamo a fare sul serio e quindi magari inizieremo a seguire un obiettivo più interessante visto che l'allevamento finalmente è finito quindi detto questo io vi saluto sperando che non crash il pc un saluto da air and blaze che sta avendo un esaurimento nervoso capitemi non ce la faccio più un saluto da air and blaze ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti